ciao a tutte bimbe eccoci al tutorial della palla con il fiore in velluto eccolo qua i colori disponibili sono il rosso questa qui che vedete già realizzata e oggi faremo la versione ghiaccio che è un panna diciamo lo chiamano ghiaccio ma è panna allora la palla è realizzata con una palla in plexiglass di 14 centimetri all'interno ho messo il led l'ho rivestita con il tubolare in pizzo che è questo molto trasparente molto d'effetto ho decorato la palla con questo cordone color lino eccolo qua e chiaramente con il fiocco nastro tresor sul dietro va bene ora io vi faccio vedere come si realizza il fiore e come si fa il fiocco il cordone vi faccio vedere come si posiziona detto questo sì il il nostro fiore poi è decorato con i pistilli tutti i materiali singoli li trovate sul sito il costo del kit di 23 euro e dovremmo mettere la metteremo questa nel nel sito il kit della palla la metteremo nel sito e vi faccio vedere subito come si procede innanzitutto dovete come aveva abbiamo già visto tante volte forare con la punta della colla a caldo il calda chiaramente il la nostra palla una volta che avete fatto il foro inserite il led all'interno e bloccate la piletta del led ovviamente sul dietro in modo che poi il fiocco la vada a coprire ok il tubolare una volta inserito lo cuscite appunto sopra gitto in cima ed in fondo e la vostra palla è rivestita questo passaggio non ve lo faccio vedere tanto lo sapete benissimo ritagliate dal cartamodello 10 pezzi di petali più piccoli e 10 pezzi di petali più grandi il fio il per ogni petalo deve essere cuscito in questa maniera allora voi prendete le due parti del dritto e andate ad accoppiarle insieme in questo modo poi con ago e filo andate a fare il punto indietro che diciamo è il punto che viene fatto come se il fiore fosse cuscito a macchina chiaramente se qualcuno di voi ha la macchina da cucire può benissimo cucirli con quella fate ovviamente prima però come sapete i nostri progetti sono tutti fatti per essere cuciti a mano quindi il procedimento per noi è questo bloccate con più punti il la partenza e poi andate a fare il punto indietro che è questo inserite lago lo fate passare in questa maniera e andate a passare di nuovo il vedete sono tornata indietro e vado a fare il punto passando oltre il filo che mi è uscito prima quindi ritorno indietro vedete in questo punto si vede bene in questo punto e passo oltre il filo che mi esce ok questo è il punto indietro proseguo ovviamente per tutto il petalo il fiore che abbiamo utilizzato per decorare la questa sfera lo abbiamo utilizzato anche per i medaglioni è un po più grande e decora il medaglione che dopo vi faccio vedere che è un medaglione fuori porta che già questo già inserite il medaglione già inserito all'interno è già inserito nel sito quindi è già lo potete già trovare se lo volete ordinare proseguite è chiaro che questo è un lavoro abbastanza lungo un po più lungo comunque i petali sono 5 5 sono 10 petali e la cucitura ovviamente fatta a macchina è molto più veloce ma noi facciamo a mano perché ci piace fare così va bene anche una macchinina piccolina per fare questi anche una cosa semplicissima e cosa vi devo dire ecco allora una cosa che vi devo dire è che anche stamani ho avvisato tutti quelli che riceveranno il pacco a metà ottobre perché hanno ordinato i kit dove è presente il boccolo il nostro nuovo tessuto doveva arrivare questa settimana però il fornitore sta ritardando la consegna e verrà consegnato io spero mi hanno detto per il 10 12 di ottobre quindi per metà ottobre appena arriva tranquille che avrete tutte il vostro materiale ad alcune di voi abbiamo anticipato tutto il disponibile dell'ordine lasciando indietro il boccolo che chiaramente riceverete ma nel pacco trovate il bigliettino con scritto quello che manca quindi stiamo cercando di diciamo mettere un po di pezze a destra a sinistra per cercare di accontentare tutte stiamo facendo diciamo i cosiddetti salti mortali però purtroppo mi hanno detto che il problema è un po per tutti non solo nel settore della creatività ma un po per tutti il nodo non ci deve venire perché mi fai arrabbiare nodo ecco visto basta basta usare le maniere forti sister che si ottiene tutto vero no forse no e quindi il diciamo che per per chi io ne ho ordinato in quantità doppia rispetto a quello che mi era già arrivato la volta precedente quindi insomma ci sarà per tutti anche perché è un tessuto che voglio utilizzare per tutto il natale perché chi l'ha ricevuto ha visto che è veramente veramente bello quindi niente ci sarà poi ci saranno i tre colori disponibili e non ci saranno più problemi spero per tutto il tutto l'inverno il cartamodello omaggio sarà pubblicato a fine mese sarà pubblicato a fine mese ovviamente sarà sempre un cartamodello relativo al natale lo troverete sulla pagina merceria creativa e le sue bimbe lo scaricate in pdf se non riuscite dal cellulare provate dal computer comunque tutte lo state scaricando anche perché vedo che state facendo tutti i lavori pattini le bustine i segnaposto cioè ne vedo a iosa diciamo quindi avete imparato tutte come come si fa a scaricarlo è il problema dei materiali effettivamente non è un problema indifferente per noi perché chiaramente quando andiamo a preparare i kit perché la preparazione dei kit non è una cosa così così veloce semplice come si può pensare ogni kit ovviamente è composto da più pezzi quindi ma se mi manca un pezzo se ci manca un pezzo il kit rimane in sospeso quindi capite bene che come manca anche una pallina di polistirolo di due centimetri cosa che è capitata il pacco non parte perché il kit non è completo io purtroppo niente cose che capita non ci si può far nulla cerchiamo detto di mettere delle pezze a destra a sinistra per raccontentarvi via bimbe dai c'è di peggio e quindi andiamo avanti così allora io sono arrivata in fondo e ho fatto come avete visto il il ho chiuso il lavoro in questa maniera una volta fatto questo vado a risvoltare il mio petalo e l'effetto che ottengo è quello come vi dicevo prima di una cucitura realizzata come se fosse realizzata a macchina ecco qua non importa che imbottiate i petali perché essendo messi in doppio in questo modo hanno già la sua la loro consistenza e vado a fare questo io prendo i primi cinque petali grandi e vado a fare il punto filza per tutti e cinque su tutti e cinque cioè unisco i cinque petali con il punto filza alla base che non ho chiuso la base che mi rimane aperta va bene questo fiore lo potete tranquillamente usare parte questo velluto è molto molto bello sia questo che quello glitter ora ve lo faccio rivedere perché ha proprio un effetto molto particolare questo la questa lavorazione questo damascato ha un effetto veramente particolare e questi due colori sono proprio due colori che non ci sono piaciuti tanto proprio per realizzare questo questo progetto io unisco in questa maniera vado a tirare i miei petali e vado a bloccare poi il quinto petalo sul primo ecco quindi una volta fatto questo io vado a bloccare il quinto petalo sul primo e vado a tirare il filo quindi lo blocco nella parte sotto questo è il primo giro di petali vado a fare la stessa cosa anche per il secondo questo è il primo giro vado a fare la stessa cosa anche per il secondo giro di petali che sono cinque un po più piccoli vado a bloccare il filo punto filza i tutorial li trovate caricati anche sul canale youtube iscrivetevi al canale youtube almeno li avete tutti 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 uno dietro l'altro quindi avete modo di vederli con più facilità per vedere i vari prezzi di tutti i kit di tutti i materiali vi conviene andare sempre sul sito e sul sito vedete anche le cose che sono disponibili cioè le cose sono disponibili sono disponibili un parolone insomma le cose che sono o saranno disponibili a breve dai ora non è che arrivano fra fra sei mesi ora se no però insomma ci piacerebbe avere tutto a disposizione per poter accontentare tutti nel più breve tempo possibile invece qui abbiamo un sacco di pacchi aperti aspettiamo che arrivi questo corriere questo corriere dove è il corriere allora come si vede passare perché qui davanti a noi c'è la strada chi c'è stato lo sa davanti a noi c'è la strada principale cioè noi facciamo la posta come si dice in gergo toscano ai corrieri cioè come si vede un camion che c'è scritto bartolini gls tnt eccolo eccolo ecco e poi non è per noi capito non si fa così siamo siamo arrivati a questi livelli si fa la posta al corriere la sister soprattutto mamma mia mamma mia la sister è stravorta ma questo non c'è questo altro non c'è via questo c'è dai meno male si manda cioè si fa proprio si esulta quando un pacco parte si esulta poi se tentante per fortuna a farci gli ordini vi ringrazio perché veramente siete siete in tantissime e comunque va bene o vai allora ci siamo abbiamo fatto i nostri giri incollate i petali in modo scambiato mettendo la colla al centro del fiore ecco qua e poi andiamo a mettere i pistilli prendete i pistilli sono tre non mi sono scordata niente eh mamma mia non ci voglio credere tre pistillini bolla perché questa l'avevo già preparato questa roba l'avevo già preparata ieri ieri e ieri l'altro ma quando la preparo prima non mi scordo niente ecco il nostro fiore è pronto vi faccio vedere ora i fiori che ho fatto per il medaglione è un po più grande il fiore come vedete allora qui l'abbiamo fatto nel colore vedete questo è il medaglione fuori porta l'abbiamo fatto nel colore chiamiamolo ottaneo che è questo questo sì questo colore blu una sorta di blu verde scuro petrolio è una sorta di petrolio abbiamo rivestito il non so se si vede bene abbiamo rivestito il la base di 21 centimetri con il tessuto di velluto damascato abbiamo perimetrato il cerchio con il cordone e abbiamo realizzato questo fiore come vi ho fatto vedere ora è di misura un po più grande sempre decorato con i pistilli la tuia la tuia champagne e questi nastri che vanno a decorare il nostro medaglione quindi i colori sono l'ottaneo il rosso come la palla che avete visto il rosso poi abbiamo il colore ice eccolo qua e il colore tortora quindi abbiamo a disposizione quattro colorazioni il kit del medaglione viene 25 euro il kit della palla 22 euro allora dopo aver fatto la rosa voi dovete prendere il la palla che avete rivestito con il tubolare andate a incollare il cordone a in questo punto lo unite unite il cordone in questo punto qua se volete intorno ci potete girare anche un pezzettino di feltro un pezzettino di 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 stoffa come preferite lo andate a posizionare in questo modo il cordone deve servire anche poi per appendere la palla andate a posizione poi dopo aver messo i rametti di i rametti di vetro tre rametti di vetro in questa maniera su un lato della palla andrete ad incollare il vostro fiore eccolo qua questo è il procedimento andrete poi a fare un finto fiocco doppio ve lo faccio vedere anche se lo abbiamo visto già varie volte con questo bellissimo nastro si chiama nastro tresor è un nastro nuovo ecco qua allora questo è il procedimento accoppiate tira stringete dietro prendete il nastro lo portate dietro lo portate davanti e andate a stringere nel centro tanto poi ve la rivedete lo rifaccio lo rifaccio allora incrociate prendete questo dietro lo portate avanti prendete il nastro lungo lo portate dietro lo portate avanti e stringete che la sista dice rifare perché lei non lo sa fatte non lo sa fa doppio fiocco doppio fiocco non lo sa fa o d'altra parte un po' mi sapeva tutto eh allora avrete la casa piena di brillantini ve lo dico eh quindi aspirapolvere guardate qua che lavoro aspirapolvere casa piena di brillantini mariti che sono no dai sono bravi i vostri mariti sono bravi dai allora questo è il fiocco che applicherete dietro come ho fatto io eh va bene quindi diciamo che il l'effetto di questa palla è abbastanza chic e molto particolare kit 23 euro domani lo carichiamo sul sito i medaglioni che vi ho fatto vedere prima il kit viene 25 euro e eh a questo punto vi do appuntamento allora giovedì giovedì oggi è mercoledì e manderò il tutorial un giorno prima anziché domani perché giovedì venerdì e sabato ho un esame in ospedale quindi eh niente particolare è un esame di routine che devo fare però eh devo fare una preparazione quindi avrete già capito cosa faccio quindi eh niente non ci sarò e il negozio rimane chiuso per questi tre giorni le bimbe continueranno a preparare kit le lascio qui dentro la sister e la desa le chiudo qui dentro per tre giorni cioè proprio ce le chiudo eh e vediamo poi lunedì quando ritorno vedrò cosa cosa è successo eh bimbe vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao